Un consiglio veloce dal tuo psicologo. Ti capita di provare spesso la sensazione di sentirti inadeguato, insicuro e temi giudizio altrui. Quando ti senti sopraffatto da emozioni che tu non riesci a sopportare, ricorri a comportamenti compensatori come mangiare più del necessario o fuori orario. A volte ti senti spinto a comprare cose di cui non hai un reale bisogno. Il tuo sonno non è di qualità e spesso ti senti già stanco al risveglio. Cerchi di socializzare ma quando sei in mezzo agli altri provi un senso di estraneità. Se ti sei riconosciuto in questi punti, sappi che sperimentare una sensazione di solitudine a lungo termine può avere effetti negativi anche sulla tua salute fisica, non solo su quella mentale. Ma di questo ti parlerò in un prossimo video.